L'Unicredit Trophy Tour sbarca a Napoli. Il trofeo della UEFA Champions League fa tappa a Napoli nell'ambito del Trophy Tour presentato da Unicredit. Fino a domenica 14 ottobre alle 22 la Coppa sarà infatti esposta presso l'Unicredit Arena che è stata allestita in piazza del Plebiscito. Attraversando il tunnel del calciatore i visitatori entreranno in un mondo ricco di atmosfera dove potranno rivivere le partite, i goal e i momenti salienti della più importante competizione calcistica europea. Sarà inoltre possibile ammirare e farsi fotografare con il prestigioso trofeo e visitare lo spazio espositivo che sarà arricchito con memorabilia, giochi interattivi, foto, video ed effetti multimediali ed offrirà una finestra sull'entusiasmante mondo della UEFA Champions League. L'esposizione al pubblico di Napoli della Coppa UEFA Champions League è stata inaugurata dagli ex campioni del Napoli Ciro Ferrara e Antonio Careca. Mi fa molto piacere stare qui e poi da un po' di tempo che ho manco e stare vicino ai tifosi è bello, troppo bello. Tengo loro nel cuore, i figli miei, sono cresciuto qua a Napoli e ti dico che è la seconda città mia.